Ciao, beh grazie di esistere ragazzo, con tutte, con tutte, aspetta che metto io Eccoci qua allora, facciamo vedere le macchine, non so se c'è ancora qualche sanguinetti, lei li conosce tutti diretta Buonasera allora, qui siamo al Palapanini e c'è un bellissimo contesto Facciamo un giro, aspettiamo Santus, che poi non è mai uscito, quella è la nostra macchina Le macchine di Modena e andiamo a salutare magari, chissà Buonasera e benvenuti, so se è sanguinetti Quindi è sanguinetti mi dico Posso occuparle una foto? Sono un giorno di...